Comaroli, diminuiscono i costi anche al Senato, in particolare alla Lega Nord? Che cosa ha chiesto? Ovviamente di razionalizzare tutti i costi del Senato perché giustamente se noi siamo lì dobbiamo essere noi stessi a dare l'esempio. Visto che questo governo purtroppo chiede continui sacrifici ai cittadini, noi dobbiamo essere in primis a farlo. Quindi noi abbiamo chiesto di ridurre i costi del Senato e soprattutto anche di dare evidenza a tutti i vari bandi, a tutti i vari contratti di acquisto. Cioè ci deve essere trasparenza, i cittadini devono sapere quello che succede al Senato anche da un punto di vista economico. Quali gli ordini del giorno accolti dalla Lega Nord? Sì, sono proprio questi dove uno chiedevamo una riduzione di tutte le spese del Senato e ovviamente fatte anche in modo oculato, ovvero non tagli lineari ma proprio tagliare quei rami secchi che ci sono. E purtroppo sappiamo che alcuni rami secchi ci sono. E l'altra cosa molto importante è proprio di dare questa trasparenza a tutti i vari contratti che il Senato fa e proprio a tutti i bandi di gara che vengono messi in atto. Tra i tagli ha anche la diaria ai senatori a vita? Tra i tagli ha anche ovviamente la diaria ai senatori a vita perché non si capisce perché i senatori che dovrebbe essere un ruolo importante e viene dato proprio ai senatori a vita questa in carico, visto la loro esperienza, non si capisce perché non vengono mai. Perché loro pur non venendo prendono lo stesso, sia lo stipendio sia la diaria. Quindi noi abbiamo detto di commisurare il loro percepito alla presenza in aula, come avviene anche per noi senatori. Ci sembrava una cosa giustissima e soprattutto una cosa doverosa. Ripeto, perché loro si prendono uno stipendio senza mai venire in aula.